Oggi vi racconto come va a finire la storia dei Neruda ad Asolo. Come avevamo già precedentemente raccontato, Ludwig Norman Neruda, trovandosi ormai senza una casa, era arrivata ad Asolo a gennaio del 1896. E mentre l'Inghilterra si apprestava a consegnare a Lady Allè il frutto della raccolta dei fondi della sottoscrizione fatta in suo onore per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, Ludwig in realtà aveva già comprato casa, perché Lady Allè aveva già mandato un assegno di 12.000 lire a suo figlio con la speciale procura che è datata 20 marzo per acquistare a suo nome una casa. Ma a quanto pare questa procura non arrivò in tempo e quindi Ludwig pare che fu costretto a comprare a suo nome il palazzo da Giuseppe Trabuchelli, il palazzo ad otto colonne che si trova nella Piazza Alta e che è attualmente la sede municipale del municipio di Asolo. Questo contratto però aveva, diciamo così, una particolarità. Ludwig paga 11.500 lire circa, ma gli vengono trattenute, cioè gli vengono inizialmente scontate 500 lire, perché questo palazzo presentava un'ipoteca. Era infatti una proprietà che apparteneva ai Pasini, alla famiglia nobile dei Pasini e che quindi in qualche modo presentava ancora un canone livellario, un canone cioè che si trasmetteva e che era un canone a garanzia del quale era stata accesa un'ipoteca fin dal 1871, quando probabilmente i Trabuchelli erano entrati in possesso, diciamo così, di questo palazzo. Quindi vengono trattenute a Ludwig 505 lire, 68, fino a prova della distruzione e della cancellazione dell'ipoteca che Trabuchelli avevano messo per il rinnovato, quindi nel giugno del 1880, a garanzia di questo canone livellario nei confronti della prepositura. A questo punto Ludwig non è contento e come avevamo già precedentemente detto, affitta anche un'altra parte del palazzo. Il 3 aprile del 1896 prende in affitto con un contratto di locazione la proprietà appartenente all'ospizio Pasini, alla casa quindi che si trova diciamo così vicino, è un lato, è un angolo diciamo così del palazzo, il cui usufruttuario era Luigi Chiminelli, personaggio noto all'Italia perché era un noto dottore, un noto medico, un noto idrologo e che era quindi usufruttuario di questa casa. Ma non è abbastanza ancora perché mentre l'ingegnere Pasqualini, mentre quindi Pasqualini si fa questa, come dire, questa relazione riguardante la casa anche per determinare probabilmente il valore, Ludwig fa un altro passo importante, importante ovviamente per come andrà poi la situazione, cioè praticamente decide di prendere un mutuo, o meglio, più che un mutuo, un prestito. Sappiamo che Ludwig era stato condannato per fallimento e la causa si era praticamente conclusa alla fine del 1895, con tutte le, diciamo così, chi doveva essere risarcito e quanto doveva essere risarcito. Chiusa il problema del fallimento, è probabile che in banca non avesse possibilità di ottenere un mutuo o forse non poteva ottenerlo in quanto era comunque un cittadino inglese. Quindi si rivolge a un personaggio, Andrea Plentl, che è di origine tedesca, Andrea Plentl di Padova, dal quale il 15 novembre del 1896 prende appunto un prestito, quello che chiamano un mutuo, ovviamente a garanzia del quale viene iscritta un'ipoteca. E l'ipoteca viene iscritta sull'unico bene appartenente a Ludwig, cioè praticamente sul palazzo. L'ipoteca prevede praticamente due rate che vengono, il mutuo è di 7 mila lire, che praticamente diventa già di 9 mila lire perché Ludwig deve dare delle rate che poi saranno semestrali di 192 lire anticipate e quindi l'ipoteca che viene iscritta sul palazzo è di 7 mila lire, cioè 7 mila lire di capitale più 2 mila di spese, libere da tasse ma con obbligo del mutuario, del mutuatario di rifusione dell'imposta che allora era al posto della nostra IRPEF, della ricchezza mobile. Cominciano una serie di lavori a Palazzo Neruda che sono ben attestati anche dalla stampa. Si dice che infatti Neruda cominciarono a lavorare sul palazzo per restaurarlo con lavori che andarono avanti per oltre i suoi mesi e quando il palazzo venne inaugurato praticamente nel 1897 in realtà non era ancora terminato. In effetti la nostra sortita all'archivio storico di Asolo ha consentito di trovare praticamente tutti i lavori che sono stati fatti sia all'interno del palazzo che nella parte relativa a che Ludwig prende praticamente in locazione. Quindi è probabile che lui abbia chiesto un mutuo anche per anticipare ovviamente questi lavori perché i soldi che la madre gli aveva mandato pare che fossero 12 mila lire. Ma attenzione, la madre aveva raccolto dal fondo che era stato costituito per lei 1600 sterline che al tasso di cambio dell'epoca, circa 26 sterline, 27 sterline per una lira fanno 39-40 mila lire. Quindi o Ludwig ha avuto dalla madre soltanto la cifra che appunto gli è stata data e consegnata per il palazzo e non anche altro per iniziare i lavori e quindi questo ha reso necessario accendere questo mutuo, chiedere questo prestito oppure la madre può aver elargito altre somme dopo e quindi comunque a un certo punto si è trovato nella necessità di avere la disponibilità per saldare questi lavori. Lavori che non interessano soltanto Palazzo Neruda ma interessano anche la parte diciamo così Chiminelli. Tant'è che nelle relazioni e che fa Pasqualini che si occupa ovviamente di dirigere i lavori, si nota come le due ali del palazzo procedano praticamente insieme perché di fatto viene aperta anche una porta per far comunicare le due parti, per esempio una stanza è interessante, viene tolta e resa la camera oscura praticamente, poi un'altra parte viene, si innalza praticamente un altro muro, si fa in modo che la parte interna, la corte interna in qualche modo sia comunicante e quindi questi lavori aumentano ovviamente da una parte dovrebbero aumentare il valore del palazzo, dall'altra aumentano tantissimo le spese e in definitiva la liquidazione che farà Pasqualini praticamente ad aprile del 1897 per i lavori di riduzione e sistemazione del palazzo Neruda consisterà in una serie di veramente un vero e proprio rifacimento, quello che poi viene definito un lavoro fatto per rendere questo palazzo veramente principesco e noi sappiamo da altre fonti successive che parte della mobilia arrivò però in realtà dalla madre, da Vilma Norman Neruda. Insomma la cosa interessante è che è vero che Asolo chiamò i Neruda benefattori della città al pari di Pen Browning perché di fatto tutta Asolo, tutte le maestranze asolane lavorarono per rendere questo palazzo principesco, quindi Ludwig elargì soldi, quanti soldi? 30.591 lire,29. Com'era questo palazzo? Noi sappiamo dal contratto di compravendita che aveva 4 piani e 26 vani, in realtà questi 4 piani non erano tutto di 4 piani perché se oggi guardiamo il palazzo non ha certamente 4 piani, ma vengono considerati nei 4 piani anche praticamente i sottoammezzati e la cantina, quindi c'era un piano terra con uno scalone principale che viene particolarmente curato in questi lavori, c'era il cortile, la terrazza, i sottoammezzati e la cantina e poi c'era il piano nobile, quello che oggi si trova al primo piano dove c'è questa sala che è l'attuale sala municipale nella quale passa sopra, nel ballatoio c'è un ballatoio dove passa appunto una specie di galleria e che in origine doveva essere stata la galleria principale di questo palazzo, palazzo che come abbiamo detto era appartenuto a Giuseppe Trabuchelli, l'ultimo proprietario, il quale era stato un notabile perché era stato anche direttore della banca fondatore e anche direttore della banca popolare di Asolo, ma i Trabuchelli, cioè suo padre, il padre di Giuseppe delvira Trabuchelli, l'avevano in qualche modo acquistato dai Pasini e noi abbiamo notizia che questo palazzo appartenne a Bernardo Pasini, quindi a questo ramo della famiglia Pasini, ma tutta la zona in realtà apparteneva ai Pasini, tant'è che il fatto che Ludwig prenda in locazione il lato, diciamo così, il civico accanto al suo, lo prende appunto dall'ospizio Pasini, il quale era stato fondato a seguito di un lascito della nobile Maddalena Piacentini Pasini che voleva fondare un ospizio per i poveri e per i vecchi di Asolo, ma nella parte sotto, nel lato sud del palazzo c'era un'altra proprietà Pasini che apparteneva la congregazione della carità, o meglio la congregazione di carità di Asolo, amministrava i beni di altri lasciti e quella parte era invece stata donata, lasciata ad Asolo da Maddalena Pasini, la figlia di Gaspare Pasini, gli stessi che avevano praticamente donato poi anche un mulino, la casa che oggi viene chiamata, veniva anche chiamata la Pasina, insomma una serie, un patrimonio molto cospicuo che ovviamente doveva essere amministrato e quindi solo una parte, Ludwig compra una parte di questo patrimonio perché è l'unica parte che era in qualche modo libera, ma libera relativamente, perché appunto come abbiamo detto aveva praticamente già sopra una sorta di ipoteca che era data di essere stata accesa per il canone livellario, sul quale palazzo lui fa accendere una seconda ipoteca, ma Ludwig fa un altro passo importantissimo in questa storia, decide di affittare con un altro contatto di locazione il civico 176, cioè il mappale 815, il lato sud, quello dove oggi ad Asolo, se guardiamo il palazzo, si trova l'attuale locanda Due Mori. Ebbene, questa parte era praticamente del patrimonio Pasini. Allora, è il sindaco Achille Serena che si occupa praticamente di stipulare questo secondo contratto di locazione, dove ha 304 lire pagabili in maniera semestrale nella cassa comunale, con un'affittanza che comprende tutti i locali del fabbricato ad eccezione di quelli occupati da Giuseppe Martini, che era l'affittuario di altre proprietà Pasini e quello che gestiva l'antica locanda Due Mori. Ma scopriamo da questo contratto che il signor Neruda entra nelle affittanze di altre persone, cioè di Gasperotti Vincenzo e Bernardi Antonio Fulluigi, i quali da questo momento in poi dovranno corrispondere praticamente i fitti a Norman Neruda. Quindi Ludwig da una parte diciamo si allarga, allarga la proprietà perché in qualche modo era memore della storia di Penn Browning e non voleva condividere certamente la casa con altri, posto che poi comunque Chiminelli non vi abitava in quella casa. Era un soffruttuario ma la casa era chiaramente disabitata, ma dall'altra cerca in qualche modo di allargare la sua base economica, di avere degli introiti perché ovviamente Ludwig come tanti allora non lavorava e la sua idea era proprio quella di potersi mantenere per la vita, mantenere un tenore di vita abbastanza alto come faceva Penn Browning, cioè affittando, guadagnando in altro modo, facendo la vita del proprietario in qualche modo. Infatti anche nella parte che aveva acquistato c'erano delle botteghe che già i rabbuchelli avevano affittato, quindi è probabile che anche Ludwig l'avesse lasciato in affitto. Quindi anche questo passo diciamo così lo fa per avere praticamente degli introiti e questo contratto praticamente ha una durata di otto anni, fino al 1905. I lavori ordinari e straordinari saranno a carico, in vero dal codice civile, a carico di Norman Edwarda che potrà farne qualunque miglioria e scopriamo che a questo punto fa parte di questo contratto di locazione anche una piccola adiacenza. A questo punto il palazzo sappiamo che è stato di fatto inaugurato con un concerto fatto da Vilma, Norman Neruda e sua sorella Olga che di ritorno dai concerti per la società del quartetto di Milano scendono ad Asolo e di fatto tengono una festa, si dice, per i notabili del paese e non per la gente comune che la applaude dalle finestre nella piazza antistante e il palazzo viene praticamente inaugurato. I lavori vengono saldati abbastanza regolarmente perché abbiamo delle ricevute con qualche punta diciamo di problemi piccoli perché ci sono anche delle attestazioni per cui praticamente non tutti gli assegni risultano coperti o meglio sappiamo che Ludwig praticamente paga con dei check in sterline che vengono che devono essere cambiate al tasso di 26,65 lire e quindi c'è tutto un problema ovviamente nei cambi quindi Ludwig versa in sterline che devono essere poi trasformati in lire e in assegni che Pasqualini versa alla banca popolare di Asolo o nella banca popolare di Montebelluna per saldare gli innumerevoli maestranze che lavorano al palazzo tra cui tra l'altro anche la manifattura Ginori tanto per dire e per trovare un collegamento con Sherlock Holmes che ovviamente ricorda ovviamente ricorda le le sue le sue passate avventure e ci sono anche dei momenti in cui ci sono dei problemi perché nel 9 marzo del 1898 il direttore della banca popolare di Montebelluna annuncia a Pasqualini che ha ricevuto gli check di Neruda però alcuni sono stati protestati per mancanza di fondi. Allora quelli più di quantità minore cioè le sterline quelli da 30 sterline sono stati protestati perché irregolari perché Pasqualini non ha firmato nella girata nello stesso modo con cui erano intestati però ce n'è uno via 50 sterline che è proprio stato protestato per mancanza di fondi e quindi intercorrono tra Pasqualini e il direttore della banca popolare di Montebelluna praticamente una serie di lettere in cui diciamo il direttore dice a Pasqualini insomma fagli presente che l'emissione di assegni senza che ci sia una somma disponibile dietro può avere delle conseguenze gravissime e quindi Pasqualini scrive a Neruda che in quel momento e siamo a una delle ultimissime lettere che Neruda scriverà prima di morire si trova appunto al Carerset Hotel e quindi è veramente una delle ultime attestazioni e lui si giustifica dicendo che lui ha versato i soldi ora se adesso questi soldi non ci sono poi si si vedrà in in seguito a quel da quel lui in quel momento praticamente non non si trova non è non è ad asolo quindi in qualche modo devono in qualche modo arrangiarsi e nel frattempo Pasqualini fa la sua relazione peritale anche della parte che viene affittata dal patrimonio Pasqualini e quindi che è molto interessante perché è una relazione che ci fa capire che vivevano delle persone anche in maniera abbastanza provisqua ma era un fabbricato ordinario senza decorazioni in tonaco in disordine il tetto in condizioni disperate però certamente diciamo aveva aveva dei luoghi addirittura in comune promiscui proprio con con come dire con con Martini però c'era una piccola bottega in via di sotto Castello quindi che faceva parte dell'affittanza e poi comunque sopra c'erano erano i locali che si trovavano al di sotto di quelli che si trovavano nella parte alta che erano i locali granai della proprietà dell'ospizio Pasini quindi come dire è in qualche modo un modo di Ludwig questo per aumentare il suo il suo entroito quello che poteva avere per potersi mantenere perché poi alla fine i lavori del suo palazzo da 30.000 e rotti lire arriveranno a dicembre del 1898 a 36.116 lire e anche qualche centesimo e che Ludwig tuttavia salda quasi del tutto ora l'11 settembre del 1898 Ludwig muore inaspettatamente per un incidente in montagna ma che in realtà non è un vero incidente in montagna dal momento che si sente male e quindi a questo punto c'è la questione dell'eredità sappiamo che deve essere applicata la legge inglese secondo la quale l'eredità praticamente spetta per due terzi alla figlia e per un terzo alla madre che nel caso di proprietà diciamo così immobili diventa usufruttuaria grazie a tutti grazie a tutti